Il Priamar, questa testimonianza storica così importante per la città, che si arricchisce di un evento nuovo, importante, in cui si rievoca attraverso oggetti storici, attraverso immagini, attraverso film, attraverso oggetti appartenenti alla società industriale. Savona è diventata una città post-industriale, non per propria scelta, ma in qualche modo per una situazione che si è venuta a creare per ragioni contingenti e economiche, ma ha un passato industriale di un'importanza incredibile. Testimonianze come queste permettono di ricostruire questo passato, di non dimenticarlo, di ricordare alle generazioni future quello che Savona era, ovviamente per traghettare Savona verso il futuro, quindi da una città industriale, una città post-industriale, in cui il culto del lavoro, unito alla bellezza del territorio, all'ambiente, alla possibilità di fare turismo, alla possibilità di avere un contenitore storico così importante come il Priamar, può significare un momento di grande rilancio per la città. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.